L'esercito delle web tv oggi si è incontrato a Bologna. Il programma, il convegno annuale, workshop, confronti e l'ambito premio dei teletopi. Oggi abbiamo assegnato 11 targhe, 11 premi con i teletopi, 8 categorie, 3 menzioni speciali, web tv di tutte le parti territoriali, da nord a sud, canali anche verticali premiati, focalizzandoci sui modelli di business quest'anno, quindi puntando alle start-up, perché fare web tv oggi diventa anche sostenibile se la si affronta in un determinato modo. Le web tv sono sempre più agguerite e come stanno cambiando oggi le web tv? Stanno cambiando, si stanno professionalizzando, stanno migliorando l'offerta, stanno aumentando i contributi video, spesso hanno iniziato ad attivare anche i canali commerciali, utilizzano l'iPad, utilizzano l'iPhone, trasmettono su Android, cambiano dialogando con quello che è la rete, il sistema rete, devono farlo anche dialogando con gli enti e le istituzioni del territorio, questo è il passaggio successivo. Quante sono oggi le web tv? Noi abbiamo presentato oggi i dati 533 web tv in Italia, più 52% rispetto all'anno passato, quindi un tasso di crescita notevole, le regioni più forti, più virtuose sono sicuramente Emilia-Romagna, anche tra i premiati l'Emilia è una di queste, Puglia, Lombardia e Lazio, ma anche nelle altre regioni le web tv si stanno moltiplicando. Di che cosa parlano le web tv italiane? Soprattutto parlano di informazione, informazione territoriale, molte iniziano a parlare anche di tematiche verticali, quindi ambiti specifici, il 26% si occupa di questo e poi alcune sono di denuncia, sono aumentate le web tv che hanno anche telecamere nascoste, che oggi con i costi del digitale che si abbattono sono più a basso costo e quindi denunciano quello che non va. L'apporto economico, come si sostengono oggi? Quella è la parte un po' delicata, la sostenibilità economica, alcune con la pubblica amministrazione, altre legandosi alle imprese del territorio, ma ancora una percentuale bassa, solo un timido 2% attinge a finanziamenti europei e potenzialmente potrebbe avere molto di più da quei finanziamenti. Premiazione dei teletopi, migliore web tv informativa 2011. In pratica ci avete ceduto il testimone, noi siamo di Bari TV, Cristian Tempesta, Michele Fazio e Salvatore Giannini. Michele cura tutta la parte tecnologica perché ha creato lui la piattaforma, ha creato un software innovativo, ma soprattutto ha messo in pratica quello che avevo nella mia testa insieme a Salvatore Giannini, cioè coprire una falla informativa che c'era a Bari e crediamo di aver iniziato un buon percorso, siamo solo all'inizio, questo per noi è una grandissima spinta, perché è una spinta per tutti quelli che in questo momento ci stanno guardando, per tutti i ragazzi che credetemi hanno sputato, si può dire sputato sangue, perché credeteci, noi abbiamo lavorato giorno e notte, crediamo fermamente in questa nostra piccola realtà editoriale che può diventare impresa, questa può e deve diventare impresa in un momento di così forte crisi di recessione, noi possiamo trasformare questo, come abbiamo detto in conferenza, trasformare questa realtà editoriale in un'impresa vera e propria, creando dei posti di lavoro tra tutti quelli che credono in questo progetto, che attualmente siamo circa 20. Salvatore vuoi aggiungere qualche altra cosa? Noi siamo anche la prima televisione che è presente sulle applicazioni, smartphone, quindi qualsiasi telefono, quindi cliccate, anzi scaricate e poi cliccate mi piace su baritv.tv. Il plus che la piattaforma in sé dà è appunto l'integrazione multipiattaforma con le applicazioni e soprattutto con Facebook, e grazie alla possibilità di vedere il video cliccando play direttamente sul profilo Facebook, abbiamo raddoppiato le visualizzazioni in maniera inaspettata, è una cosa in cui crediamo, insomma la diffusione virale dell'informazione che raggiunge l'utente, dove l'utente passa il tempo libero. Noi piccole realtà editoriali insieme alla web tv, insieme ad altre realtà piccolissime micro web tv, dobbiamo necessariamente unirci, l'unione fa la forza, l'unione fa la forza, ricordatevelo. Grazie. Grazie. Grazie.